Rilanceremo in collegamento Rete Sport in connessione Gianluca Piacentini, Massimiliano Magni a cui do anche il bentornato in diretta. Ci state? Buongiorno. Allora, io prima di entrare, di scambiare anche con voi qualche parola con Roberto Gualtieri, noi avevamo intrapreso un percorso musicale che ci aveva portati in Brasile. Io però, siccome sono un po' terra terra, dal Brasile voglio approfittare della presenza, anche il collegamento con Rete Sport e chiedere a Roberto di darci qualche elemento musicale di romanità con... è bravissima la chitarra. Tra l'altro, poi dopo ti chiederò della scuola romana musicale che sta facendo dei risultati pazzeschi a livello mondiale, perché poi Roma si sta anche innovando dal punto di vista musicale. Se voi siete d'accordo, io volevo chiedere a Roberto di scegliere... Ma lui intelligentemente, dal Brasile è passato già Bruno Massino, che è di Roma, è nato, è vissuto da Roma, e questa è la trasmissione per arrivare, non so, che ci vuole far sentire di romanesco o di romano? Ho sentito proprio all'inizio di questa trasmissione qualche nota di un inno alla città dell'altro grande cantautore romano, quindi possiamo partire da lì, possiamo partire da lì. Vediamo se la riconosciamo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.